Albano Carrisi, un regalo inestimabile e importante per Romina, l'ho tenuta per noi. Albano e Romina Power sono una delle coppie più amate dagli italiani, e non sono ormai praticamente lo sempre. Dopo la loro riunione dal punto di vista professionale i fan hanno sperato che i due potessero effettivamente tornare ad essere una coppia anche nella vita privata. Da una parte però queste speranze si sono affievolite quando durante la quarantina il cantante di Cellino San Marco, ha fatto una confessione che ha davvero spiazzato tutti. Albano Fatti sembra aver confessato di essere tornato insieme a Loredana Lecciso, ed infatti i due insieme ai loro figli hanno trascorso la quarantina all'interno della dimora di Cellino San Marco. Questo però non ha in alcun modo minato il rapporto di rispetto e di grande affetto che esiste tra il cantante e la sua ex moglie ed il gesto che Albano ha fatto nei confronti di Romina ne è la prova tangibile. Ma cosa è accaduto? Come abbiamo avuto modo di anticipare, sembra che il cantante di Cellino San Marco abbia voluto fare un prezzo davvero molto eclatante nei confronti di Romina Power, facendole un regalo dal valore inestimabile. In molti hanno considerato questo gesto davvero molto importante nei confronti di Romina che in qualche modo evidenzia come il loro rapporto sia comunque molto important nonostante e siano trascorsi tanti anni, e nonostante sia accaduto quello che è accaduto tra di loro. Non si tratta di un regalo che è arrivato in questi giorni, ma un po' di tempo fa e di cui mi aveva parlato lo stesso Albano nel corso di una intervista. Il cantante di Cellino San Marco aveva chiarito il tipo di legame che lo lega all'ex moglie. Grazie a Romina Power, ho fatto pace con la mia campagna, e ho compreso che le mie radici sono qui. Così, anno dopo anno, mi sono messo a comprare terreni per ingrandire la proprietà di mio padre. Il primo acquisto è stato ispirato proprio da Romina. Ho comprato 60 ettari di un bosco stupendo che l'aveva incantata. Ne ho dato metà a mio fratello Franco. Queste le sue parole. Albano poi avrebbe concluso con queste parole. E l'altra metà l'ho tenuta per noi. Insomma quella utilizzata da Albano sono state parole molto cariche di affetto e di sentimento. Ma molto significativo, è stato anche il regalo che Albano ha voluto fare alla sua ex moglie. Come ringraziamento per essere stato sempre vicino da moglie e poi come amica.